Se c'è un reato sarà cura della magistratura accertarlo. Intanto, per il senatore PD Luciano D'Alfonso, di certo c'è l'anomalia che tutta nelle pieghe del carteggio burocratico partito dall'approvazione del piano regolatore generale di Atessa. Per incompatibilità di 15 consiglieri comunali su 17, il Consiglio Comunale delibera la nomina di un commissario ad acta, richiesta poi bloccata da quattro consiglieri di opposizione e accolta dalla Regione, che con una comunicazione protocollata il 7 febbraio annuncia la notifica di un ricorso al TAR. È proprio da questa lettera, definita anti-giuridica, che muove la denuncia del senatore D'Alfonso. È una lettera che non merita di esistere, perché è una lettera frutto di una curvatura, di una genuflessione irrazionale. Sostanzialmente si ostacola il cammino del comune di Atessa con atto tipico adottato del Consiglio Comunale che richiede un commissario ad acta e anziché nominare ed insediare il commissario ad acta la Regione sospende perché un foglio di carta, quattro firme, di consiglieri comunali di opposizione, magari accompagnato da telefonate pressorie, forse, presumibile, immaginabile, ha raggiunto questi due funzionari che hanno aderito alla lettera dei quattro consiglieri comunali e non alla delibera del Consiglio Comunale che è ordinamento della Repubblica. Allora io voglio capire che cos'è successo. Sono stati raggirati questi due funzionari che si chiamano De Julis e La Flacco e il suo capodipartimento che si chiama Pescara? Io li conosco, sono stati anche loro datore di lavoro in quanto Presidente di Regione. O sono stati raggirati o hanno vissuto un tale malessere che hanno firmato questa lettera a seguito di pressione, di spingimento. La Regione per Statuto ha il mandato di aiutare i comuni, i corpi intermedi, e aiuta i comuni dialogando sul piano istituzionale con attività tipica, delibere, atti ufficiali, esaltazione della ragione, della precauzione che è per esempio iscritta nella delibera del Consiglio Comunale di Atessa, la quale afferma la realtà di Atessa. Poiché siamo 15 consiglieri comunali su 17 in conflitto di interessi, la legge ci obbliga a richiedere il commissario ad acta e anziché favorire questo, che la legge prescrive, si organizza l'ostacolo con un giro inchiostroso per rallentare, impedire, fare in modo che il Comune di Atessa non abbia lo strumento urbanistico che faciliti il suo futuro. Va disconosciuta questa lettera. Gli enti istituzionali parlano per atti tipici, non per letterine che raccontano condizioni di perdita di autonomia. Questa lettera non ha a che fare con il diritto, è antigiuridica. Cioè non si può fare finta di nulla, è di una gravità inaudita, ed è per questo che io mi rivolgo direttamente anche ai funzionari, oltre che alla politica. Se hanno bisogno di un avvocato per recuperare la loro autonomia, sono pronto a fornire io l'avvocatura gratuita. Loro vanno liberati da una condizione di pressione che solo questa può aver generato una lettera così.